Grande festa della cultura all'Istituto Sacro Cuore di Siracusa. I ragazzi centisti che hanno affrontato gli esami di Stato raccontano il loro percorso e la gioia della condivisione. Allora, oggi siamo qui riuniti perché è giusto far conoscere alla cittadinanza i nostri ragazzi che sono stati molto bravi lungo il percorso scolastico. 9-8 ragazzi hanno preso 100, di cui 3-100 è lode. È stato un percorso bello, specialmente per alcuni che hanno iniziato dalla scuola dell'infanzia e sono arrivati fino alla maturità. Questa è una scuola che porta avanti non solo il recupero, ma soprattutto l'eccellenza. Un'attività di apprendimento e impegno che ha visto uniti insegnanti, studenti e dirigenza. Noi come insegnanti vorremmo ringraziare intanto le famiglie, la scuola, le suore, la preside, che hanno permesso di svolgere un percorso che ha portato poi i ragazzi a sviluppare la loro eccellenza. Lo spirito dell'Istituto è sempre stato quello di valorizzare l'alunno come persona e come risorsa importante per la nostra società. Volevo soltanto ringraziare i miei alunni perché mi hanno dato l'opportunità di insegnare loro tutto ciò che è necessario per arrivare a dove vogliono arrivare loro. Che ha fatto raggiungere anche degli ottimi risultati insegnando loro il sapere mai disiunto dal saper vivere. Al centro dell'esperienza dei giovanissimi il piacere di apprendere e costruire la strada per il loro futuro. Sicuramente sarà un'esperienza molto importante, la preside ci ha accompagnato in questo percorso di studi e adesso sicuramente puntiamo ad altro perché questo deve essere il punto di inizio non il punto di arrivo. Io personalmente vorrei ringraziare la preside per tutto quello che ha fatto e la scuola che davvero mi ha dato tanto. Vorrei ringraziare Sor Estere per essere stata capace di selezionare un corpo docente talmente valido da essere oltre che insegnanti anche maestro di vita. Ovviamente la maturità non insegna un punto di arrivo ma un trampolino di lancio per il nostro futuro. Vorrei ringraziare la scuola e in particolar modo la preside per il percorso di crescita. I professori che comunque ci hanno insegnato a vivere poi anche in un ambiente piacevole, stimolante. Vorrei ringraziare la scuola perché oltre ad avermi insegnato molto dal punto di vista didattico è stata anche come una seconda casa per me. Mia figlia qui ha ritrovato la vita, era piccolina quando è entrata in seconda elementare con delle crisi di panico, non riusciva a salire le scale. Grazie a Sor Estere si è arrivata a questo punto. Anch'io ringrazio Sor Estere e l'eccellente preparazione dei professori che hanno portato fino ad ora mia figlia qui. Ringrazio i professori e Sor Estere in particolare perché ha trovato una famiglia, sono stata felice di portarla qua mia figlia, si è trovata benissimo. Un traguardo importante che testimonia un percorso d'eccellenza, questi ragazzi che si affacciano a un futuro che io auguro radioso e che spero poi possa ritornare in servizio e contributo per la crescita della nostra comunità. Grazie a Sor Estere e Sor Estere in particolare